Buonasera, sono Valentina Bresvic, avvocato e rappresento questa sera lo studio legale Martorana. Sono stata invitata in qualità di speaker all'iNetwork, dove ho avuto la possibilità appunto di rapportarmi, di parlare anche di quelle che sono le opportunità che eventi di questo tipo possono dare a noi giovani professionisti e anche giovani imprenditori, oltre alla possibilità di creare delle reti e delle relazioni. In modo particolare il settore delle nuove tecnologie, delle start-up, offre sicuramente degli sbocchi importanti e delle possibilità di supportare, creare e dare modo di realizzare idee a tutti quanti lui.